madonna perchè non trovo i dvd li hai trovati i dvd? no ancora no cerca cerca dove? dove stanno i dvd? devo vedermi un bel po' di film questa sera dove stanno? ehi rudy guarda cosa ho trovato sciuma da barba e quella a che serve? guarda funziona così oh ma si scemo umano oh guarda qua make up quello non è i make up è borotalco wonotalco bonotalco? eh? eh 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 Grazie.